La mia vita è il circo, il mio mestiere è fare l'artista, fare l'artista e lavorare con il cuore. Il circo accoglie tutti, tutte le persone, razza, stato sociale, religione e tutti si rispettano l'un con l'altro. Strano, ma è così. La nostra vita è città talmente diversi che poi è difficile convivere con le altre persone. Sono persone particolari perché io penso che se non avessero queste qualità non riuscirebbero neanche a fare questo tipo di vita. Chi viene qui come spettatore sicuramente non capisce niente, vede il mondo del circo, vede le storietà, gli illustrini, la luce, il colore. Sembra che uno vuole apparire, ma bisogna essere. Si appare soltanto nello spettacolo. È sempre bellissimo fare lo spettacolo, ogni volta, anche se tutti i giorni è uguale, ogni volta è bello. La gente che entra rimane molto stupita comunque. Non si rende conto di quello che c'è dietro, pienamente, però molto stupita. Io faccio questo perché è il mio mondo, è la mia vita, è la mia tradizione, è la mia cultura. Il circo è fatto di persone, di donne, uomini, bambini, animali. Il corpore di persone, di donne, uomini, bambini, 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 a tutti i giorni. Grazie a tutti.